Con Maurizio Polverini per parlare come al solito della nostra rubrica del martedì dedicata al calcio minore ma non troppo nel quale abbiamo spostato l'Arezzo perché in un momento di velletà e di agonismo da Aretini con Stefano Brandini come tutti penso gli Aretini eravamo convinti di poter vincere il campionato le possibilità si assottigliano sempre di più siamo a sette punti dalla vetta e poi quello che più preoccupa è il detto i versi nembelli dicono a Castello perché le dichiarazioni dell'allenatore dell'Arezzo l'altro giorno sono sembrate un po' esagerate o sbaglio Sì diciamo che purtroppo ripetiamo le stesse cose il campionato di Arezzo ha avuto una svolta con lo sconto detto in casa con il Ponte d'Era quando abbiamo perso 4 a 2 una partita anche diciamo giocata benissimo nel primo tempo poi non si è avuta gestire e questo forse è il problema di Arezzo non si è avuta gestire persa anche in maniera sfortunata però il Ponte d'Era con quella vittoria si è portata a sette punti e da lì è cominciata questa rincorsa a Ponte d'Era cercando di rosicchiare qualche punto ma l'Arezzo fuori casa ha dato adito a delle critiche il discorso che dici giustamente te anche Bacis non mi è piaciuto tanto perché il campo a Ponte Vecchio a Ponte San Giovanni non era eccezionale poi loro sul 2 a 0 si sono messi tutti in difesa non so se dovevano sul 2 a 0 più che altro più che altro o poi sempre due tiri in porto a due reti, quattro tiri in porto a quattro reti come al Pianese è vero anche questo ma è anche vero che l'approccio della squadra soprattutto fuori casa non mi sembra un approccio di una squadra che deve giocare tutte le partite diciamo alla morte per cercare di recuperare il Ponte d'Era è un'impresa difficilissima io credo che dopo il Ponte d'Era ad Arezzo anche i giocatori che non sono scianno un'anima quella era la partita che doveva, che l'Arezzo doveva vincere sì poi non solo i giocatori ma mi sembra che tutto l'ambiente da quella sconfitta ha cominciato un po' a allontanarsi allora l'altro calcio? l'altro calcio facciamo un brevissimo escursus, intanto ricordiamo che settimana passata c'è stato un recupero o meglio una giornata in fase settimanale dell'eccellenza è stata importante perché c'è stato il sorpasso della Fortis sul Fiesole questa settimana ma grazie alla vittoria anche conquistata la settimana passata cosa c'è da dire in questo campionato velocissimamente? c'è da dire che purtroppo qui si rischia che le prime due, dico purtroppo perché si fa il tifo per le aretine le prime due che sono Fortis e Fiesole avendo più di 10 punti sulla terza rischiano di fare direttamente il passaggio nella categoria superiore senza potersi svolgere i play-off in base al regolamento nuovo che prevede la forbice di 10 punti infatti diciamo che il Fiesole ha 11 punti di vantaggio sul San Cimignano e addirittura una partita in meno quindi questo è un problema serio soprattutto per San Giovanni, per Figline e anche per Castelnovese che sono lì a giocarsi i play-off domenica prossima abbiamo la partita Fiesole-Caldini e San Giovanni di San Giovanni deve assolutamente cercare di ridurre questo strappo in fondata classifica abbiamo invece delle buone notizie per le aretine perché il Sochi viene da due successi consecutivi e si è riportato diciamo in lotta clamorosa per una salvezza diretta vista anche la sconfitta del Calenzano che è con 24 punti e quint'ultima in classifica a pari del Subbiano e diciamo che il quint'ultimo posto in eccellenza dà la salvezza diretta perché sappiamo che Montevacchia è successo direttamente se vuoi facciamo un brevissimo riassunto della promozione della prima se no la facciamo la prossima volta la facciamo la prossima volta perché con il tuo clamoroso mi hai fatto venire in mente che alle 13.35 su Radio 1 io sarò in diretta con Pupo su Attenti a Pupo a fare il famoso steno non esiste il clamoroso complimenti il tipo Sariteno come tutti i martedì ma tu mi ascolti o no? alle 13.35? non mi ascolti va bene, voi invece fatelo Radio Rai 1 attenti a Pupo alla prossima uso pubblico a fini privati questo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti